Salve, mi chiamo Enrico Ligliano e sono studente dell'Accademia di Belle Arti di Firenze. L'opera, realizzata dal concorso dell'Arte Carappelli, è un loro sottile, rappresentante di un maestoso albero, come potete vedere, che sovrasta un paesaggio desolato segnato dal fuoco. La tela stessa, come potete vedere, è stata intenzionalmente bruciata, in quanto volevo dotare il dipinto di ricordi, di esperienza, volevo dargli una storia vissuta, volevo creare un'opera che sia viva, che sia forte, che abbia vissuto qualcosa, veramente. Volevo fare in modo che trasmettesse la sua esperienza allo spettatore. Questa, come potete vedere, è una finestra, è una finestra che ci porterà qui, a quest'altra dimensione pittorica. Grazie. 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 Grazie.